bella rachi trapani, siamo i granadas e mentre noi si fa la sega perchè mi faccio le seghe le seghe incredibile, fantastico, una mamma incredibile che in realtà penso sia la stessa mappa è la stessa mappa di istituto però con la neve con la neve, con la neva, mi piace la neva se siamo l'archi, ok l'archi gioco io comunque abbiamo provato a fare una missione online in coop anche senza frax e dread ma con qualcuno desconosciuto ma neanche lì prende i fatti sempre fanno cagare di questo gioco, i matchmaking fanno schifo il gioco è bello ma il resto fa schifo andiamo grande questo voglio usare i suoi petta oh va merda aspetta, dove vai, no 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 aspetta grande, grande mamma mia vai così, bam, guarda come piatta quello certo il ventilatore quando ci stanno meno 8 gradi è giusto mamma mia con la petta, la petta più coata del quartiere eh eh vabbè io direi che siamo arrivati ok oh come uno sta volando ma amico mio no non è che cosa ammazza gli elefanti così almeno non cosa ma buraccio, sappiamo sempre che gli elefanti ho capito ma cosi almeno non lo usa aspetta tutti qua è una macchina da distruggono, non è che di cipollaccio sappiamo sempre che amano è una parola che allora qua solo io con la cosa capace sì vabbè mo mo ammazza mo vabbè che vabbè però vabbè ti ho fatto certi pezzi che manco l'egola non c'è più ma qua sotto? che ci sta? dove? qua sotto uh puncherino mi senti dall'altra parte mamma mia ho visto come pezzi eh sì ancora dopo la kill vai vai qua non può diventare è facile diventare oh eccolo che cazzo voi vaffanculo ho fatto perdere la kill olè mo sta quella del merda ma ho fatto perdere la kill tacci su dove stai pezzo di merda no lo so ma intanto devi stare tranquillo perché si deve innescare la bume e devi esplodere l'obiettivo quindi stai qua e guarda intanto è quello il tuo obiettivo eccolo l'elefante oh mannaggia oh mannaggia sto sto torino seduto pam non va ma sto dal carcio così si è stato se dovrebbe far di pro player non ci stanno i veicoli cioè non fa per a piedi ottimo conoscione all'ostra persa migrazione all'ostra in corso migrazione all'ostra in corso esattamente inimese tanto 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 te li server di fata il . mamma. margins non preoccupare tutto lobo canadena canadena popolo 2 il mio popolo ha preso dietro diciamo che era un po' difficile vai veloce l'hai preso ho preso sì lui non mi vedeva mamma mia magico come cazzo sei stessi che è un po' applauso ciao non volevo farlo però vabbè gli elefante basta non fa morire però ti devo fare un culo vai ciccio vai ciccio mio vai ciccio mio tu puoi caricarlo so che questa è una carica ma tu c'hai tipo un brutto al portogliabili fammi capire tranquillo tu vai a testa di andare a servo non ti preoccupare non c'è la pare levante non fai ammazzare gli spezzi le gambe a buraccio ops pensare che ti ha salvato la vita eh oh guarda quanto si spegne muoce denuncia la produzione animale oh ma che cazzo sei ma non muore ma che gli fa uno stecchino per lui ma che è vulnerabile si chiacchino si chiacchino però come si eeeh eccolo vedi come si muove eeeh muo te carica te lo dico sto cazzo vabbè eeeh ma pure mi c'è un donare si ma la sai usare oh oh calcio così ragazzi oh mi sono fatto niente c'è un veicolo da qualche parte qualcosa qua davanti al calcivolante eeeh mamma 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 occhio occhio sto penso che merda cazzo è oh è l'orso da evo capo oh ma porca puttana oh è morto a man coglione muori male proprio aspetta 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 no non andava avanti al calcivolante eeeh 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 è quasi morto però sai la cosa vuoi eeeh finalmente una kill incredibile fantastico oddio cazzo 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 è quello carica è il constantly il monastero polio vado muo il padre il panico non sono elefante mancava di giaguaro cazzo o o a quando cazzo viene sto coso mi porta punta che odio mamma devi morire morire lefante lo dico eh come si lancia la cosa come si lancia spara come si spara no ma che cazzo fai io non c'ho parole il panico proprio ti capito ma spara cazzo ti sta bene addosso male che va a morire però gli ha tolto un po' di vita è finita ragazzi se vi è piaciuto questo video non dico se vi è piaciuto però se vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare like un like qua sotto arrivo a 30 like e noi ci vediamo al prossimo video per Cry ciao